In questo terzo video della settimana guarderemo e commenteremo un esercizio, il cui codice vi condividerò, relativo appunto al routing e all'utilizzo di page.javascript. Partiamo col guardare come funziona, come funziona praticamente nel browser, qual è il risultato finale che otteniamo. Lanciamo, allora, vedete adesso il server è spento, lancio con nodmon il nostro file server.javascript che è molto simile al file che avevamo già creato in precedenza e ricaricando la pagina vediamo che a localhost.3000 slash, come prima, come nell'esempio, nell'immagine mostrata nelle slide, abbiamo l'elenco dei nostri esami che è essenzialmente una tabella con data, il nome dell'esame e il voto in cui abbiamo sostenuto l'esame. Tutto fatto con Bootstrap, tutto come prima. Vi ricordo che questa è solo una versione semplificata dell'applicazione degli esami che abbiamo fatto finora, quindi senza la barra laterale e senza il form, ma il resto è essenzialmente identico, a cui abbiamo aggiunto una seconda pagina che si chiama corsi. Quindi la pagina esami mostra i miei esami che ho sostenuto col voto in una certa data, la pagina corsi mostra tutti i corsi che posso seguire con il loro codice e il numero di crediti. E notate che quando ho cliccato su corsi la URL è cambiata e non è diventata localhost.3000 slash corsi.html come era capitato nell'esempio server-side, diciamo di navigazione server-side che vi ho mostrato nel due video fa, ma è diventata slash courses. e questo slash courses, se voi guardate nei log del server, vedete che da quando è partito abbiamo chiamato javascript moment, javascript main, javascript app, javascript api, che vi ricordo essere l'equivalente del nostro, quello che prima chiamavamo exam manager, due template, ma file javascript, un altro file javascript, javascript, poi api exams, che è la lista degli esami, poi la favicon, che non è disponibile, e poi api courses e favicon.a, ico. E notate che api courses, se io vado a chiamarlo di qui, che api courses non è questa pagina, se io vado a chiamarlo di qui, localhost.3000 slash api slash courses, vedete che è il json che rappresenta i nostri corsi, quello che prima chiamavamo solo localhost.3000 slash courses. E qui si vede la prima modifica che abbiamo fatto al nostro software, al nostro programma. Ovviamente localhost.3000 courses non poteva sia rappresentare il json, sia rappresentare questa pagina. Dovevamo usare due nomi diversi. Allora questo potevamo chiamarla courses e questa potevamo continuare a chiamarla courses, oppure per esempio questa, dato che sono api rest, possiamo premettere davanti sempre un api. Quindi avremo api courses e api exams. Quindi quando interagiamo col server, chiamiamo localhost.3000 api qualcosa, e questo è una cosa che abbiamo deciso noi, che ho deciso io, una convenzione, per scrivere le url, non è una cosa obbligatoria, e invece da questa parte utilizziamo direttamente i nomi senza api. In questo modo ci garantiamo, a meno di evidenti problemi o evidenti errori, di mantenere sempre url separate tra il client, tra l'applicazione javascript che gira nel browser e in un certo senso l'applicazione javascript che gira nel server, in quanto Express è ovviamente un'applicazione javascript. E quindi qui abbiamo courses, qui abbiamo esami, e vedete se io cambio, esami non ha una url, è agganciato direttamente alla root, perché è la pagina principale, e io posso continuare a cambiare e ovviamente questi continuano a funzionare. Io posso anche scrivere courses e ovviamente mi viene caricata la porzione di pagina giusta. Non viene ricaricato tutto, infatti non c'è una richiesta dal browser, ma viene ricaricata solo questa porzione di tabella, allo stesso modo quando faccio esami. Vedete, quando clicco qui, vedete che quello che cambia è solo questa, la pagina non si ricarica. Ovviamente se io qui cancello e riscrivo, sto richiedendo una nuova pagina e quindi si ricarica, ma in questo richiede una nuova pagina, vedete che mi viene rimandato tutto, main app, eccetera eccetera, e ovviamente la pagina viene visualizzata, ma perché lo scrivo da qui. Questo permette per esempio anche di utilizzare i tasti avanti e indietro del browser. Qui vado su corsi, qui vado su esami, qui torno su corsi, torno indietro, vado su corsi, torno indietro, vado su esami, e vedete che questo viene aggiornato correttamente senza che la pagina venga ricaricata. Ma semplicemente se guardate il log viene chiamata l'API corrispondente. Quindi su esami viene chiamato l'API REST che rappresenta gli esami e su corsi viene chiamato l'API REST che rappresenta i corsi. Quindi questa. E questo è il funzionamento. Come abbiamo fatto a, prima di tutto, agganciare questo e questo a due indirizzi diversi e poi, va bene, questa parte di visualizzazione la potete immaginare. Prima avevamo un metodo, una funzione che si chiamava ShowExam che costruiva questa tabella, adesso abbiamo una funzione che si chiama ShowCourses che costruisce quest'altra tabella. Ma essenzialmente stiamo in maniera simile, non uguale a prima, manipolando il DOM. In maniera simile perché ho aggiunto un concetto che non è niente di nuovo, è solo un concetto diverso, questi template che adesso andiamo a vedere. Ma non è niente di tecnicamente nuovo, è solo un modo diverso di fare quello che già facevamo prima. Quindi invece di manipolare il DOM andando a creare un nodo o un elemento HTML alla volta, quindi creavamo tbody, poi dentro tbody creavamo il tr, poi dentro tr creavamo il td con questo, poi il td con nome, poi il td con credit, eccetera. Adesso usiamo un template, ma lo mostriamo tra poco. Partiamo da cosa abbiamo modificato su server. Su server abbiamo modificato veramente poco. Fino qui praticamente è tutto identico, se non il fatto di aver raggiunto API davanti a corsi e davanti a esami. Quello che abbiamo aggiunto è stata questa nuova GET. Cosa dice questa nuova GET? Questa nuova GET dice per tutti gli indirizzi, per qualunque GET che mi arriva, ovviamente che non sia relativa a API exam e non sia API courses, quindi che non sia una di quelle definite esplicitamente prima, in questo caso queste due, mandami, rispondimi, mandandomi un file. Che file? Index.html. Quindi quello stesso file che noi prima fornivamo, che è presente, è chiamato attraverso il middleware static, adesso, prima lo scrivevamo qui, facevamo un redirect tra slash e index.html, adesso quello non l'abbiamo bisogno perché la gestione viene fatta lato client e quindi abbiamo questo send file. Questo GET all courses e GET all exams sono identici a prima, non è cambiato niente anche rispetto al database, quindi tutto come prima. ripeto, quello che è cambiato è che abbiamo aggiunto questo slash API nella URL e abbiamo aggiunto questa GET, che dice per tutte le chiamate che ricevo in GET, ovviamente diverse da quelle che precedono, manda una risposta e in questa risposta non c'è uno status, non c'è un JSON, ma in questa risposta mandi un file. Quale file? Index.html. Tutto questo, fat.resolve, eccetera, è un modo complicato, diciamo così, ma è sicuro e affidabile, per concatenare, send file vuole il path assoluto su disco, perché sta mandando un file da disco, quindi non localhost 3000, ma vuole la cartella in cui questo file si trova, e send file vuole un path assoluto, non relativo, quindi non possiamo scrivere public, e quindi dobbiamo concatenare dear name, che rappresenta la directory attuale in cui si trova questo progetto, quindi per esempio users, Luigi, development, progetto, slash, public, slash, index.html, quindi questo dear name contiene tutta la parte iniziale in cui si trova la root di questo progetto, e questo path.resolve prende questo dear name e questo public e lo concatena. Io avrei potuto scrivere dear name più public index.html, path.resolve è un modo più sicuro e affidabile, soprattutto pensando in un'ottica cross-platform, quindi a disposizione per sistemi operativi diversi, in quanto si preoccupa lui, per esempio, di gestire i c2.slash, e quindi si preoccupa lui di sistemare i path tra sistemi Unix-like, come Mac o come Linux, e sistemi Windows che hanno una modalità di scrittura dei path delle cartelle, delle directory, ovviamente diversa. Quindi si preoccupa lui di fornire un qualcosa che sia corretto, funzionante per il send file. Quindi, ripetendo, essenzialmente abbiamo di nuovo le due API rest di prima, che ritornano a JSON, e in più abbiamo aggiunto questa, che dice per tutti le richieste che non sono quelle precedenti, in questo caso che non sono le due precedenti, mandami la index.html. Quindi caro server, se non è un API dove devi tornarmi il JSON, mandami sempre e solo un file, e questo file è il file index.html. Questo file index.html è essenzialmente lì identico a prima. Importiamo Bootstrap, importiamo il custom CSS, creiamo la barra superiore, abbiamo l'error message, e abbiamo il nostro contenitore principale. La differenza, se volete, rispetta prima che il contenitore principale non avrà più una tabella, ma avrà direttamente un ID agganciato a questo contenitore. Perché non ha più una tabella? Beh, perché la tabella Corsi, la pagina Corsi, ha la tabella Codice, Nome e Crediti, e la pagina Esami ha la tabella Data, Esame e Voto. Quindi sono due tabelle diverse, quindi dobbiamo inserirle nella pagina. E in più, se avessimo una tabella Profilo Studente, magari non c'è una tabella all'interno della pagina Profilo Studente, ma avremmo altro. Quindi abbiamo bisogno di un link al contenitore principale per riempirlo. Però, essenzialmente, è identica prima, custom.css non è stato toccato, main.css è identica prima. Ecco, con l'altra differenza che, ma questa è una finezza, passiamo anche un identificativo di questi link. Perché? Perché adesso siamo nella pagina degli esami, ed esami è bianco e corsi è invece opaco, e quando clicco su Corsi, Corsi diventa rosso e l'esame diventa opaco. Quindi ci serve questa navigazione per, prima di tutto, riempire questi, e quindi collegare questo all'Ocalostra 3000 e questo all'Ocalostra 3000 Corses, e poi anche per cambiare il colore di questi due. Quindi popolare questa navbar in maniera dinamica in base alle pagine che abbiamo a disposizione. in quanto nella index.html, se andiamo a vedere, la navbar non ha niente, ha il titolo, uponline, e poi ha un ul vuoto che contiene i link di navigazione. Proprio perché il server, quando fornisce la index.html, non sa quante pagine ci sono qui, se sono due, se sono tre, se sono cinque. e quindi dobbiamo aggiungerle noi esattamente come aggiungiamo in una tabella. Main, come dicevo, è esattamente identica prima, se non il fatto che passiamo nav link, quindi un altro id rispetto all'app container. App, fatemi magari fare un saltino, exam è esattamente uguale a prima, quindi c'è la descrizione dell'esame con codice, nome, data e voto, quindi quello che ci serve qui, la data è di tipo moment, abbiamo il metodo from json per creare un esame. Quello che prima era l'exam manager, adesso si chiama API, perché adesso si chiama API e non più exam manager? Beh, perché qui stiamo gestendo sia gli esami che i corsi e quindi non è più il manager il gestore degli esami, ma è in realtà il gestore delle richieste al server e quindi per semplicità l'ho chiamato API. Quello che fa questo file è avere tutte le chiamate che servono al server. Quindi get exam, che è esattamente lo stesso identico get exam di prima, e get courses, che è un nuovo, una nuova funzione che prima non avevamo, ma che essenzialmente fa quello che faceva, che fa exam, quindi exam, chiama API exam per prendere json, get courses, in realtà ce l'avevamo, get courses, perché mettevamo i crediti qui, ma comunque è una get alla collezione json e ritorna l'elenco dei corsi con codice, nome e credito, niente di più. E gestisce l'errore esattamente come prima. Abbiamo visto exam, moment è lo stesso momento di prima, main l'abbiamo visto, API è il nostro vecchio exam manager che adesso appunto è exam slash courses, è il nostro page manager, o meglio, è il nostro gestore delle richieste al server, che di nuovo ho chiamato API. Dobbiamo allora vedere adesso app, appunto javascript, e questa cartella template. Partiamo dalla cartella template. Cosa c'è nella cartella template? Nella cartella template vedete, se apriamo, sì, è uguale, se apriamo exam template per esempio, vedete che ci sono due funzioni. Una che si chiama create exam table e l'altra che si chiama create exam row. Cosa faranno queste funzioni? Come dicono il nome, create exam table crea la tabella degli esami e create exam row crea una singola riga di questa tabella. Perché questo è un template? Perché questo è un template string, un template literal. E anche questo è un template string, un template literal. E vedete, è una stringa su più righe in cui a un certo punto andiamo a valutare del codice del codice JavaScript. Perché? Perché voi ricordate com'era il prima esami? Come costruivamo prima questa tabella? Avevamo questo pezzo nella index appunto HTML che adesso appunto non possiamo più avere perché ne abbiamo due. Abbiamo sia esami che corsi e quindi abbiamo potenzialmente un contenuto molto diverso tra una pagina e l'altra. E poi all'interno di app.javascript avevamo il metodo showExam che andava a riempire manipolando il DOM pezzettino per pezzettino il nostro la nostra cartella. E quindi il nostro metodo showExam se lo ricordate era abbastanza lungo soprattutto quello del task manager. Andiamo a vedere com'è adesso l'equivalente di showExam perché c'è ancora showExam. Eccolo qui. Cosa fa showExam? showExam chiama il metodo dammi gli esami da API che è esattamente quello che faceva prima chiamandolo da exam manager e poi fa due cose. Chiama il metodo createExamTable questo da nav template scusate questo da exam template quindi questo che è puro HTML vedete non c'è javascript è solo HTML e lo imposta come innerHTML di AppContainer quindi va a mettere la tabella vuota solo il titolo qui dentro vediamo fatemi commentare quello che viene dopo così vediamo il comportamento di questo allora se io aggiorno vedete che ho solo la tabella createExamTable c'è solo la tabella al suo interno a quel punto cosa faccio vado a prendere MyExam che è l'ID del T-Body in cui andare a inserire le singole righe questo costruisce la tabella e prepara il corpo della tabella e poi all'interno del corpo dobbiamo mettere le singole righe cosa sono le singole righe le singole righe in maniera analoga a quello che era precedente cicliamo sugli esami e per ogni esame creiamo una riga chiamiamo questo template che crea una riga quindi per il primo esame mettiamo qui dentro passiamo qui le informazioni sul primo esame che sarà passiamo qui dentro questo oggetto exam che avrà data che avrà 15 febbraio paradigmi di programmazione 26 e metterà data formattandola come moment come giorno giorno mese mese anno anno il nome e il voto poi questa funzione verrà chiamata una seconda volta da questo ciclo for e col secondo esame col terzo col quarto esame e ogni volta che viene chiamata va in exam table e con questo metodo insert adiacent html va a inserire quella stringa quel template prima della fine di exam table exam table vi ricordo che era my exam quindi exam table era questo tbody id my exam slash tbody e prima della fine vuol dire qui dentro per il primo vuol dire nella riga sotto per il secondo perché questo è la fine di my exam e quindi prima della fine e subito qui all'interno quindi questo template in un certo senso ci risparmia se voi ricordate tutto il codice che serviva crea un tr poi crea un td poi all'interno di td metti questo poi aggancia il td al tr poi crea un altro td e metti questo poi crea un altro td e metti questo e aggancia tutti i td al tr poi il tr agganciamolo al tbody e poi e avanti così quindi questo template ci risparmia quella parte di creazione di quattro elementi separati da riempire in javascript manipolando il dom e ce lo fa fare in maniera più semplice in maniera più snella semplicemente andando a fare il filling andando a riempire dei pezzi di una stringa che è un template literal una stringa su più righe esattamente come quella che abbiamo usato tante altre volte solo che qui la usiamo per contenere un pezzo d'html per andarlo a inserire dove ci serve perché questo è un approccio comodo perché per esempio ci permette di evitare di fare copia e incolla di porzioni di codice o di porzioni d'html come facevamo in passato quindi in passato per creare un 3td con la manipolazione del dom creavamo tre elementi td e li andavamo a riempire a mano e qui invece lo scriviamo direttamente in html e in più ci permette di riutilizzare per esempio nel caso della navbar questo stesso template della navbar viene chiamato da entrambe le pagine sia da corsi che da esami per impostare correttamente questo il colore del link cliccato del link non cliccato e quindi non dobbiamo copiare e incollare questo codice ma semplicemente utilizzarlo quindi questo template ci serve solo per scrivere meno codice non manipolare direttamente il dom ma andare a inserire direttamente pezzi di html e dobbiamo usare insert ad agent html perché gli altri metodi a eccezione fatta di inner html si aspettano un elemento dom come parametro invece noi abbiamo una stringa come parametro quindi non possiamo fare altro che usare i metodi che finiscono con html per riempire elementi del dom ovviamente showexam funziona così showcorses funziona in maniera analoga prendi i corsi crea la tabella dei corsi fa un query selector a mycorses invece che a myexam crea per ogni corso la riga del corso e fa un insert ad agent html di ogni singola riga in maniera esattamente speculare rispetto a quello che fa appunto exam poi app ha una serie di import di tutte le cose che ci servono quindi template page e ovviamente get courses get exam per chiederle a serve e poi nel costruttore cosa fa nel costruttore è dove c'è la parte di navigazione dove c'è la parte di definizione delle root quindi prendiamo app container esattamente come facciamo prima e definiamo due root più il binding che è quello che in un certo senso attiva tutto questo se noi questo non ce l'abbiamo questa è una riga molto importante se non ce l'abbiamo vedete che qui non si vede niente non funziona niente perché e se io che scrivo courses non dà errore ma non capita niente non vengono neanche chiamati le API proprio perché questo è quello che serve ad attivare in un certo senso tutto a collegare queste root con il browser con gli eventi del browser che ci interessano quindi ci serve averlo sempre questo page aperto e chiuso a parentesi e poi a quel punto tutto funziona cosa fanno queste root queste definiscono due root la root root che è quella che è la pagina di default che rappresenta gli esami e la root courses quindi localhost 2.3000 slash courses dominio porta slash courses cosa fanno queste due root queste due root essenzialmente chiamano una show exam una show courses per creare queste tabelle e poi fanno lo stesso giochettino che fa exam che fa show courses per la navbar quindi prendono il navlink che quindi è questo pezzo della navbar dove vanno messi i link e la svuotano e a quel punto dopo averla svuotata la riempiono con il metodo creates navlink la funzione create navlinks l'abbiamo aperta prima velocemente non è altro che un template che va a settare se esami metto attivo qui se questa funzione questo oggetto è una stringa che si chiama esami metto attivo questo se questa funzione è una stringa che si chiama corsi attivo corsi e questo ovviamente non diventa attivo quindi essenzialmente fa cambiare inserisce questi due link e tutti i link che ci servono e poi fa cambiare il colore in base alla stringa che viene passata qui quindi vedete in un colpo solo volevamo gestire due, tre, cinquanta link in un solo file con una sola variabile che decide chi va evidenziato di bianco e chi va messo come attivo come link attivo attuale e chi va invece messo come link da cliccare perché non è attivo quindi come prima chiamo questo recupera lo string literal e lo mette before end all'interno di questo where ul e poi chiama esami che renderizza la tabella stessa cosa per courses svuoto appena clicco lo inserisco con la stringa courses e poi mostro corsi come vi dicevo è importante svuotarlo perché guardate cosa succede se non lo svuoto se non lo svuoto esami lo svuota aggiunge i due link e chiama esami quando io clicco corsi quello che succede è che lui non lo svuota e aggiunge a sua volta due link vedete ogni volta che primo corsi anche se la pagina non cambia io continuo ad aggiungerli perché questo non viene mai svuotato quando primo corsi quando primo esami invece viene svuotato tutto e e quindi tutto funziona come ci si aspetta questo perché andiamo appunto a manipolare l'html e dobbiamo sempre ricordarci che quello che abbiamo inserito nella pagina dato che la pagina alla fine è sempre una anche se cambia la url anche se cambia questo contenuto noi abbiamo sempre una sola pagina index.html e quindi se non la manipoliamo in questo punto negli altri punti ormai abbiamo aggiunto quegli elementi nel DOM il DOM rimane fisso rimane riempito con quello che ci interessa nei prossimi video partiremo da questa applicazione con le root che come vedete è molto semplice basta definire qual è la url e che cosa deve fare una volta che il sito raggiunge quella url e poi definire questo page e poi tutto il resto può essere identico a quello che c'era già prima io ho aggiunto questo template solo per rendere il codice più snello e più corto in modo da non avere il codice molto lungo o duplicato ma il vecchio show courses continuerebbe a funzionare l'aggiunta vera per la root è essenzialmente questo è l'import quindi nei prossimi video partiremo dopo la prossima set di slide partiremo da questo esercizio per aggiungere l'autenticazione quindi il fatto che io possa fare login e vedere solo i miei esami mentre un altro utente che non sono io vedrà solo i suoi esami e non i miei invece magari vedranno tutti e due vedremo la stessa lingua di corsi perché per esempio tutti e due siamo iscritti allo stesso anno perché questi sono i corsi dell'intera università a un'intera università